Buon pomeriggio a tutti. Il titolo del mio progetto di ricerca è Center Meeting e Non-Center Meeting, l'esperienza pilota di alcune filiali di SEF in Sudafrica. Fa parte del mio progetto di tesi magistrale in collaborazione con Social Innovation Team. Prima di entrare nel merito di questo progetto vorrei soffermarmi un attimo sul contesto nel quale ci immergiamo, che è quello del microcredito. La cosa più bella che ho imparato svolgendo questa ricerca è stato capire qual è l'effetto e l'importanza che il microcredito ha sulle persone. Questo è un'innovativa forma di accesso al credito per individui poveri, i quali non possiedono un collaterale a garanzia del prestito, per cui rimangono esclusi dai canali tradizionali di credito. La metodologia con cui viene concesso loro un prestito è quella del credito di gruppo. Gli individui devono riunirsi in un gruppo di 4 o 5 persone e hanno la responsabilità solidale sulla somma che gli viene concessa. Per cui dove non ci arriva un membro entrano in gioco gli altri membri in aiuto. Le caratteristiche del microcredito sono quelle di un prestito di ammontare molto piccolo, con delle rate di rimborso ridotte, ma frequenti nel tempo. In particolare abbiamo analizzato un programma di microcredito sudafricano. Il Sudafrica è purtroppo ancora un paese segnato dalla sua storia, con una fortissima disparità nella distribuzione del reddito fra individui bianchi e neri. L'istituzione che mi ha ospitato e sul quale abbiamo svolto il progetto si chiama The Small Enterprise Foundation, CEF. Opera come sede principale a Zanin, però opera in quattro province del Sudafrica. La sua struttura organizzativa è molto rigida, è divisa in province, in zone, le zone in branch e via di seguito, fino ad arrivare ai centri, che abbiamo visto nel titolo iniziale. Ogni centro accoglie una decina di gruppi di donne che prendono a prestito. Perché le donne? È stato dimostrato, scritto, che le donne che prendono a prestito abbiano una consapevolezza del prestito ricevuto più alta rispetto agli uomini e spendano questo prestito non tanto per sé, ma più per la famiglia, per i figli. Queste donne che ricevono il prestito si incontrano in quelli che sono i center meetings, che sono esattamente l'oggetto della nostra analisi. Cosa sono? Sono degli incontri periodali, bimensili nel caso di CEF, in cui le donne si incontrano e svolgono tutte le attività finanziarie del caso, per cui ripagamento della rata, versamento del prestito e via di seguito. Ma prima ancora di questo, sono un'occasione in cui le donne socializzano, discutono, si scambiano idee e informazioni, quindi hanno la possibilità di aumentare il loro capitale sociale. Quindi la frequenza a questi incontri nella letteratura è stata, diciamo, inglobata all'interno di un sistema di enforcement e di monitoraggio delle clienti. Per cui si è dimostrato che una frequenza maggiore di questi incontri conduca a delle performance finanziarie migliori. Tuttavia, dall'altro lato della medaglia, abbiamo che questi incontri sono però anche un costo, sia per le clienti, in termini di tempo, e un costo d'opportunità, perché non possono recarsi sul loro posto di lavoro per partecipare all'incontro, sia per l'istituzione erogatrice stessa. Questo disagio è stato, diciamo, segnalato da numerose clienti di CEF. E si è tradotto prima in una bassa partecipazione a questi incontri e poi all'abbandono totale dell'istituzione di CEF. Per cui nel maggio del 2014 CEF decise di lanciare questo progetto pilota in cui andava a modificare le regole, la policy di questi incontri. In particolare, è stata ridotta la frequenza di questi incontri da bimensile a mensile e solamente un rappresentante per gruppo è tenuto a partecipare a questi incontri, quindi non più tutte e cinque i membri, ma solamente una sola donna. Quindi il primissimo obiettivo che ci siamo posti era andare ad investigare se ci fossero dei cambiamenti nelle performance di rimborso e di risparmio dei gruppi, date queste nuove regole di riduzione. Poco prima della mia partenza, quindi eravamo intorno ad aprile del 2015, CEF decise di interrompere questo pilot perché è ritenuto fallimentare, senza però darci delle spiegazioni, delle dimostrazioni. Intuitivamente è stato interrotto, quindi abbiamo aggiunto un secondo obiettivo che è stato appunto quello di andare ad indagare sul perché di questa interruzione e di questo fallimento. I dati quindi sono stati raccolti in due grandi macro-arie. Da una parte abbiamo raccolto i repayment schedule e deposit slip, che prettamente sono dati quantitativi sulle performance di rimborso e dall'altro abbiamo condotto anche un sondaggio con delle domande più prettamente qualitative. Ho inserito nelle slide un esempio di repayment schedule. Su questo documento, che non è nient'altro che un registro, vengono inserite tutte le informazioni di un gruppo, per cui quant'è la rata da rimborsare, quanto effettivamente viene rimborsato, la loro presenza al centro. Abbiamo analizzato 5.653 di questi documenti divisi per gruppi e abbiamo appunto, grazie a questa raccolta, individuato laddove ci fossero dei ritardi nei pagamenti. Dall'altra parte abbiamo intervistato 255 donne e chiesto loro informazioni più prettamente personali e sul loro rapporto con SEF, sul loro rapporto con gli altri membri del proprio gruppo. Quindi il campione costituito è stato un campione formato da un gruppo trattato di clienti che avevano subito le modifiche della policy e un gruppo di controllo creato da noi di clienti invece che non erano state sottoposte alle nuove regole. Abbiamo utilizzato una procedura di propensity score matching per poter ovviare ai problemi di una selezione non random del primo gruppo che era stata decisa da SEF. L'analisi che abbiamo utilizzato è quella di un'equazione difference in difference. Non entro nel merito del tecnicismi del caso, solamente vi dico che quello che si voleva fare era di andare a misurare l'effetto del trattamento sulla variabile ritardo nei pagamenti e ammontare di risparmio dati le nuove regole di riduzione. I ritardi purtroppo ci hanno dimostrato quanto SEF aveva intuito. Infatti abbiamo avuto un ritardo entro la settimana che ha aumentato di circa il doppio, un saldo del conto risparmico che invece è diminuito del 10% per cui concludiamo che le performance sono state peggiori e il pilot è stato fallimentare. Bene per SEF che ha intuito subito. Ma allora perché il pilot non ha funzionato? Grazie all'analisi dei sondaggi abbiamo individuato tre grandi aree. La prima è quella di un'area che riguarda la comprensione delle regole e delle ragioni del pilot. Abbiamo riscontrato che le clienti avevano una buona conoscenza delle nuove regole introdotte. C'è stata però una mancanza di una stesura di regole più precise e soprattutto di supervisione, monitoraggio e controllo da parte di SEF nell'implementazione di queste regole. In secondo luogo c'è stato un problema non indifferente sulla partecipazione agli incontri. Il 75% delle donne intervistate ha dichiarato di partecipare comunque agli incontri anche se non era loro richiesto. Questo è stato ovviamente interpretato come una perdita di tempo le ragioni della comunque partecipazione agli incontri sono state da una parte la scarsa fiducia tra i membri di un gruppo che comunque volevano partecipare all'incontro per vedere se il mio rappresentante ripagava il prestito e pagava la rata in maniera corretta. Dall'altra abbiamo riscontrato un problema nel fatto che chi fa fatica ad incontrarsi al di fuori degli incontri organizzati dall'istituzione da SEF ha poi problemi anche nella relazione con i membri del proprio gruppo. Quindi in conclusione quello che cerchiamo di suggerire per poter migliorare la policy di questo pilot che aveva tutte le ragioni di esistere e il cui obiettivo era assolutamente un obiettivo degno perché permetteva alle clienti di comunque creare il loro capitale sociale in maniera meno onerosa per loro è quello innanzitutto di una stesura di regole più complete un monitoraggio più profondo nella fase soprattutto iniziale da parte dell'istituzione e soprattutto una partecipazione comunque dell'intero gruppo all'incontro. Quindi andiamo a confermare quello che già è presente in letteratura sul microcredito di una necessità di incontri frequenti all'interno dei programmi di concessione prestiti soprattutto per poter migliorare il capitale sociale delle donne e quindi ottenere delle performance finanziarie migliori. Vi saluto con questa foto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.